Buonasera a tutti, benvenuti, siamo qui questa sera per un'occasione veramente importante. È un evento per noi storico perché per la prima volta ci troviamo in questa condizione particolare a offrire a tutti una possibilità di condivisione che ha interessato le nostre scuole. Le nostre scuole intendo le scuole paritarie della Valle del Seveso che sono di tutte di ispirazione cristiana, molte parrocchiali come Barlassina, Meda, Seveso, Cesano e anche Pinzago e altre di ispirazione cristiana come i Fratelli Maristi, le Suore Sacramentine e la Scuola Frastate di Seveso. Questo incontro nasce dal desiderio di mettere in comune l'esperienza fatta quest'anno. È stato un anno molto particolare, come tutti sanno, e noi ci siamo trovati, quando dico noi dico i presidi, i coordinatori, a mettere sul tavolo l'esperienza di fede fatta insieme alle nostre famiglie. Nello specifico, mi è capitato proprio quest'anno di leggere un libro di Julian Carron, che si intitola Educazione e comunicazione di sé, che assieme ad alcuni miei insegnanti mi ha fatto molto riflettere e ci ha fatto prendere sul serio l'iniziativa di verificare che la fede è un'ipotesi di risposta alle esigenze del vivere. Da qui il dialogo aperto con tutte le realtà della nostra valle, del nostro territorio e con gli altri presidi, con gli altri coordinatori, abbiamo voluto raccontarci come le nostre scuole avessero vissuto questo periodo, con le loro fatiche, come spesso si racconta, ma anche con le esperienze virtuose. L'anno scorso poi, nello specifico, le scuole paritarie sono state ricordate, grazie a Dio, ogni tanto vengono ricordate, per non solo le esperienze virtuose a livello didattico, di innovazione scolastica, ma anche per l'accompagnamento che hanno saputo fare alle famiglie e ai ragazzi. Da qui il dialogo tra di noi, insegnanti, coordinatori, presidi, si è approfondito, per cercare di capire un po' di più che cos'era questo sguardo umano che le nostre famiglie cercano e che condividono. E quindi è stato molto interessante poterci raccontare come l'esperienza di fede vissuta da ciascuno, nello specifico della propria scuola o del proprio carisma, sia diventata un'ipotesi culturale, un'ipotesi per tutti. E come questa è diventata e può continuare a diventare un'ipotesi sociale, un'ipotesi per tutti, anche quelli che sono fuori dalle mura della nostra scuola. E allora ci siamo incontrati con Don Fabio Landi, responsabile della pastorale diocesana, scolastica, e gli abbiamo raccontato che cosa era successo tra di noi. E da lì l'esigenza di voler consegnare alla Chiesa e al nostro Vescovo l'esperienza, la forma delle testimonianze e le domande che ci accompagnano. Perché una cosa che abbiamo visto è che dentro la crisi la fede è sempre una risorsa. e ha portato tanti di noi, tante nostre famiglie, a scoprire cose immaginabili, ma nello stesso tempo ad avere sempre nuove domande, sempre nuove esigenze. Ma la cosa che ci ha colpito soprattutto è poter verificare che il dramma, la crisi, non è l'ultima parola, ma è l'occasione per incontrare Gesù sempre in ogni circostanza e vedere come Gesù se la cava, per dirla così tra virgolette, tra di noi e come fa fiorire la nostra vita. Quindi noi questa sera vogliamo consegnare alla Chiesa, all'Arcivescovo, l'esperienza che abbiamo fatto e le nostre domande. Abbiamo raccolto tante domande, tante testimonianze, tante narrazioni, abbiamo dovuto per forza sceglierle per dare la possibilità a tutte le realtà di rappresentarsi e di raccontare l'esperienza vissuta. Quindi questa sera abbiamo dato voce a quattro testimonianze e quattro domande che possono in qualche modo consegnare alla Chiesa il percorso fatto e chiederle anche un contributo, quindi con domande, con riflessioni, ma nello stesso tempo anche con correzioni che vorranno darci. Quello che noi desideriamo è che questo non sia un episodio isolato, ma che possa diventare una storia. Per questo noi vogliamo trascrivere poi questo incontro con un documento e renderlo un lavoro, un'ipotesi di lavoro. E perché no, magari dare il via ad altri incontri. E per questo ci affideremo sempre a Don Fabio Landi e all'Arcivescovo che ringraziamo che ha accolto con la consueta paternità le nostre domande e le nostre esigenze. Quindi io ringrazio tutti e lascio la parola in questo momento a Don Fabio Landi. Grazie. Ringrazio molto anch'io fin dall'inizio, come avete capito anche dall'introduzione, e non è che abbia fatto particolarmente... Quello che ho fatto è stato raccogliere l'invito, raccogliere anche le tante domande. Vi ringrazio perché penso anch'io che questa occasione di stare insieme tra genitori e docenti, tra chi nella scuola ci lavora e chi della scuola usufruisce per i propri figli, e di stare insieme tra scuole diverse non sia qualcosa di scontato, ma che sia qualcosa di particolarmente bello e prezioso, soprattutto in un momento così delicato come questo. e quindi anch'io confido che sia soltanto l'inizio di un lavoro comune, di un cammino che farete insieme. Poi vi ringrazio perché ho letto tante domande, tanti contributi e soprattutto tanti racconti, tante testimonianze che molti genitori, molti di voi credo, hanno voluto mettere per iscritto. Non è una cosa da poco, credo che sia un lavoro molto oneroso da parte di ciascuno, quello di provare a fermarsi e raccogliere magari in una paginetta le proprie considerazioni e quello che ha significato per lui il tempo trascorso, e anche le domande a volte si capisce molto sofferte, molto complesse che ne sono emerse, e è stato per me veramente significativo perché è stata l'occasione di entrare un po' anche se dall'esterno, dentro tutto il vissuto delle vostre scuole, delle vostre famiglie e di raccoglierlo. Poi naturalmente come ricordava poco fa il preside Marchisio, noi questa sera avremo l'occasione soltanto di ascoltarne qualcuna, però poi ci sarà la possibilità naturalmente per chi vuole di inviare ulteriormente riflessioni, domande, considerazioni che poi potranno essere riprese appunto per un lavoro futuro. Quindi il mio compito questa sera è molto semplice, semplicemente appunto introduco i genitori che porranno le domande di volta in volta e poi ascolteremo l'Arcivescovo che ringrazio particolarmente per essere intervenuto, per essere così disponibile e credo che questo darà veramente qualità alla nostra serata. E quindi partiamo con la prima domanda che viene posta dalla signora Elena Giovenzana e dell'Istituto Suore Sacramentine di Cesano Maderno a cui passo subito la parola. Buonasera. Innanzitutto un sincero grazie per avere la possibilità di esprimere le nostre emozioni e opinioni e sentirci coinvolti e non solo spettatori di una situazione finora inimmaginabile in un confronto con tanta autorevolezza. L'esperienza della pandemia ha condizionato i nostri percorsi di questo ultimo anno e ha condizionato le nostre scelte. Abbiamo sospeso e annullato tutto, cambiando il nostro ritmo di vita quotidiana. L'abbiamo affrontata e abbiamo tentato di ricavarne il bene. Così, nell'impossibilità di muoverci, abbiamo riscoperto l'importanza della nostra missione all'interno delle mura di casa. Partendo dai nostri figli, con l'ascolto e la vicinanza. Il virus ci ha rivelato la nostra fragilità e la scuola dei nostri ragazzi è stata un esempio di vicinanza e di continuità. I nostri docenti hanno affrontato la difficile situazione con uno stato emotivo congruo e di coinvolgimento, non lasciando mai soli i nostri ragazzi che hanno così mantenuto la giusta serenità. Hanno trasmesso implicitamente agli alunni un messaggio positivo, rassicurante, in qualche modo di ottimismo, che ha dato l'infa vitale durante il confinamento. Il tempo che stiamo vivendo assomiglia a un lungo e travagliato viaggio e crediamo sia necessario avere fiducia e speranza. Noi cerchiamo di dare un senso a quanto vissuto e a quanto ci attende. L'attuale situazione di fatica e di incertezza richiede coraggio. Preoccupa adesso in modo particolare la mancanza di lavoro, la solitudine degli anziani, l'isolamento scolastico e la perdita di socializzazione di una fascia non piccola di bambini, ragazzi e adolescenti. La fragilità può portarci in dono la consapevolezza che nessuno si salva da solo e che siamo tutti necessariamente interconnessi. Siamo tutti sulla stessa barca. Come la nostra fede ci aiuta a tirare le somme di un'esperienza unica per volgere lo sguardo al futuro e cosa Dio sta facendo per noi in questo momento di difficoltà? Grazie. Grazie di questa domanda. Partirei dalla seconda domanda. Cosa sta facendo Dio? È una domanda diciamo un po' provocatoria che quasi rappresenta, almeno si può intendere, come un rimprovero a Dio, come spesso c'è nei salmi o nei libri dei profeti che chiedono a Dio ma perché non ti svegli, ma fino a quando ti dimentichi, ma tu non stai facendo niente per noi, ma ti sei dimenticato, eccetera, eccetera. Quindi questo cosa sta facendo Dio si può intendere naturalmente in tanti modi, però la reazione più spontanea diciamo è questa, di avvertire come il bisogno di una rassicurazione, cioè che Dio c'è, che Dio fa qualcosa, che Dio si interessa, come se appunto la situazione facesse nascere il sospetto che appunto al contrario Dio non si interessa, Dio non fa niente, o forse addirittura Dio non c'è. Cosa sta facendo Dio in questo momento? Ecco, io non lo so naturalmente perché noi non sappiamo niente di Dio, quello che sappiamo è quello che Gesù ci ha rivelato, quindi quello che Dio sta facendo adesso è quello che Gesù ha promesso, cioè ci sta donando lo Spirito. Ecco, lo Spirito Santo è il dono che continuamente a ciascuno viene dato da Dio. E che cosa fa lo Spirito Santo? Che significa ricevere lo Spirito Santo? ricevere lo Spirito Santo significa ricevere un amore, un modo di amare, una forza di amare, una sapienza dell'amore che ci rende capaci di amare. Ecco, cioè amare cosa significa? Amare significa vivere come Gesù. Ecco, Gesù ha praticato l'amore e quindi cosa ha fatto Dio per Gesù? L'ha reso, l'ha accompagnato come figlio e quindi ha reso possibile per Gesù, uomo, vivere come figlio di Dio. Ecco cosa sta facendo adesso Dio per noi. Non sta dicendo adesso vediamo se ve la cavate, vi metto alla prova. Non sta dicendo voi siete cattivi perciò io devo castigarvi per correggervi, no, queste qui sono tutte fantasie che io non ho mai letto nel Vangelo. Nel Vangelo non si parla mai di un Dio che sta lì a guardare intanto che tu stai soffrendo e per dire vedere se te la cavi o per castigarti perché non sei stato bravo come avresti potuto. No, no, io sconfesso tutte queste fantasie a proposito di Dio perché noi non abbiamo il diritto di proiettare sul mistero di Dio la nostra immaginazione. Abbiamo soltanto la grazia di essere certi di quello che Dio fa perché ce l'ha rivelato Gesù. Quindi questa è la mia risposta. In questo momento Dio ci dona lo spirito perché noi possiamo vivere come Gesù. Vivere come Gesù quando i giorni sono belli, quando tutto procede normalmente, quando si hanno tante soddisfazioni e bla 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 e anche quando invece tutto sembra andare storto, anche quando tutte le cose che potevamo fare ci sono state impedite. Anche lì Dio ci dà lo spirito perché in quelle situazioni noi possiamo vivere come Gesù il quale ha vissuto i momenti di festa, gli inviti alle case degli amici, i banchetti e di nozze, ha vissuto le grandi cose belle del suo popolo e ha vissuto anche tutto quello che abbiamo meditato, cioè il rifiuto, il disprezzo, l'insulto, addirittura la violenza fisica fino alla morte. Ecco, noi siamo resi capaci di vivere come Gesù. Perciò la nostra speranza, la fiducia che questa domanda contiene, questa testimonianza che pure nelle difficoltà è cresciuta la fede, è cresciuta la speranza, si è mantenuta la fierezza di fare il bene. Ecco, perciò, ecco, questo è la speranza, è l'affidarsi alla promessa, cioè non è che la speranza sia come un'aspettativa per dire, beh, adesso le cose van male, ma speriamo adesso tra un po' di diventare gialli, di diventare bianchi, di poter, cioè queste sono aspettative che si possono chiamare previsioni, ma non speranze. La speranza è la risposta, è l'affidarsi alla promessa di Dio, e cioè che Dio ci salva, che Dio ci ama, che la via di Dio, che la via di Gesù, porta alla salvezza. Questa è la nostra speranza, c'è qualcosa di promettente nel vivere come Gesù, cioè la salvezza, che non è la garanzia che tutto vada bene, ma è la potenza di Dio che salva anche dalla morte. Quindi, ecco, io vorrei soltanto contribuire a definire alcune parole che usiamo spesso e che rischiano di diventare delle parole incomprensibili, e quindi quando diciamo cosa fa Dio, noi possiamo dire solo, fa così, ci dona lo spirito, per vivere come Gesù. E la speranza in noi non nasce dalle proiezioni che ci dicono, ma forse le cose stanno migliorando, il PIL sta crescendo, tutte queste cose sono cose importanti, ma non sono ciò in cui speriamo. Noi speriamo che Dio sia fedele alle promesse che ci ha fatto in Gesù. E la prima domanda è questa, come la nostra fede ci aiuta a tirare le somme di un'esperienza unica per volgere lo sguardo al futuro. Quindi la fede, che cos'è la fede? La fede è proprio questo, è la relazione con Gesù, non è avere una qualche competenza specifica, non è la fede un atteggiamento semplicemente così di fiducia, è una relazione, è la relazione con Gesù. E quindi la domanda è questa, come la relazione con Gesù ci aiuta a trarre, così imparare qualcosa, ecco da quello che abbiamo vissuto, e farne un patrimonio che ci permette di affrontare il futuro. Allora adesso io qui sarebbe lunga questa risposta, però io mi permetto di rimandare al messaggio che i Vescovi Lombardi, cioè noi e tutti i Vescovi di Lombardia, abbiamo scritto proprio per dire come la fede può farci, cioè la vita con Gesù, la relazione con Gesù che è la fede, ci può rendere capaci di trarre vantaggio, di trarre frutto, ecco, anche dal dolore, dalle mortificazioni, dalle solitudini. Ecco, i Vescovi dicono che si potrebbe in questa situazione imparare a pregare, si potrebbe in questa situazione imparare a pensare, si potrebbe in questa situazione imparare a sperare oltre la morte, si potrebbe in questa situazione imparare a prendersi cura degli altri. Chiaro che queste affermazioni sono un po' generiche, però voi capite bene che contrastano radicalmente con tante cose che si fanno. Imparare a pregare vuol dire dunque imparare che noi abbiamo una relazione con Dio da coltivare, ecco, che non siamo soli, abbandonati in questo universo contrario alla gioia. imparare a pensare vuol dire che noi non ci possiamo accontentare di ripetere le notizie del telegiornale, le notizie che raccogliamo in internet, le notizie dei vicini di casa, tutte le solite cose che ripetiamo ossessivamente senza poter parlare d'altro. Pensare vuol dire qualcosa di più profondo. Imparare a sperare oltre la morte contrasta con quella idea della rassegnazione a morire, che sembra un dogma indiscutibile della cultura contemporanea. Imparare a prendersi cura vuol dire che noi contrastiamo l'indifferenza. Ecco, io vorrei fermarmi qui per dire quello che secondo me si può rispondere a queste domande. Grazie dunque della testimonianza e anche del contenuto provocatorio delle domande che mi sono state fatte. Grazie. Oltre a questa lettura complessiva del tempo che stiamo vivendo, mi hanno colpito particolarmente molti messaggi, molte testimonianze relative alla prensione e in qualche modo anche proprio una trepidazione nel guardare i propri figli, i bambini o ragazzi di crescere e anche reagire in modo peraltro molto diverso da età a età e da famiglia a famiglia, da situazione a situazione nei mesi scorsi. Allora, come così esemplificativo di una preoccupazione molto diffusa e trasversale, sentiamo la signora Luisa De Falco dell'Istituto dei Fratelli Maristi di Cesano Maderno. Grazie. Buonasera a tutti. La mia rappresenta una piccola testimonianza di una mamma ma anche di un'operatrice sanitaria che non solo si è trovata a lavorare in un momento di emergenza, ma si è trovata anche a far fronte a delle piccole difficoltà emotive di una figlia in età adolescenziale che per due mesi si è trovata a vivere comunque isolata in una cameretta. E questa piccola difficoltà che mi ha portato perché mi sentivo comunque un po' inadeguata come genitore, mi sentivo abbastanza forte da tutelare la mia famiglia a chiedere un piccolo sostegno alla mia scuola, alla scuola di mia figlia, i maristi, affinché potessero comunque seguire la mia ragazza. Ho pensato comunque di scriverle un'email a seguito di una telefonata che ho ricevuto da mia figlia mentre ero al lavoro, una telefonata in cui mia figlia era preoccupata per interrogazione, cosa che mi ha fatto sorridere perché dicevo come è possibile mia figlia che conosce la realtà è più preoccupata dell'interrogazione andata male anziché di una situazione che stiamo vivendo. L'email la vorrei condividere con voi. Abbiamo fatto un riassunto di quello che stavamo vivendo. Purtroppo a casa non viviamo una situazione serena. Essendo infermiera la direzione mi ha spostato in prima linea con i covid-19 positivi nelle 24 ore. La nostra vita è cambiata radicalmente e mia figlia seppur apparentemente tranquilla vive purtroppo con la paura che mi ammali. Non si cena e non si pranza più insieme. Tutti tranne lei indossiamo una mascherina e si dorme in camere separate. Che dire una condizione familiare e lavorativa disumana. Oggi mia figlia mi ha chiamato al lavoro piangendo e mi ha detto che l'interrogazione di spagnolo non è andata a buon fine. Non so perché era disperata. Forse solo una scusa per sentirmi forse altro ho sorriso sinceramente perché nella mia mente mi è passato il pensiero che per mia figlia fosse più importante la preoccupazione dell'interrogazione anziché del coronavirus. Vorrei darle di più ma non posso. Le parlo ma forse non è mai abbastanza. Mi sento impotente dinanzi a una richiesta di un bacio o una carezza ma devo cercare di tutelarla nel migliore dei modi. In questo momento chiedo alla scuola un aiuto di vicinanza. Mi sembra di trovare nella scuola le uniche persone a cui posso chiedere un aiuto. Come sostenere le difficoltà emotive di crescita dei nostri figli in un momento nel quale ci sentiamo noi per prima inadeguati perché io mi sono sentita inadeguata e involontariamente ho trasmesso a mia figlia quello che erano le mie ansie e preoccupazioni e come possiamo superare la solitudine nella quale ci troviamo nell'educare i nostri figli. Grazie di questa testimonianza e di questa domanda. Le famiglie degli operatori sanitari hanno sentito credo con più intensità e drammaticità questo tempo questa situazione e questi pericoli anche di contagio quindi vorrei esprimere la mia solidarietà proprio anche a lei signora e a tutti coloro che hanno lavorato in queste situazioni per prendersi cura degli altri perché il loro mestiere è già di solito molto oneroso molto impegnativo evidentemente in questo momento della pandemia è diventato anche drammatico ora io non non so come si possa affrontare l'emotività e rendere più diciamo sereno questo tempo per gli adolescenti per i ragazzi per quelli che insomma forse non hanno quella solidità che forse gli adulti potrebbero anche avere ecco io non saprei come aiutare questo però ecco questo esempio molto interessante della figlia che piange o comunque che è preoccupata per l'interrogazione di spagnolo e tende a forse anche a ignorare almeno in quel momento lì il virus e le sue la sua minaccia è molto interessante perché vuol dire che l'emotività non è obiettiva perché uno sente molto forte molto molto intensa una cosa una prova che poi obiettivamente se si può usare questa parola è modesta ci sono alcuni che si disperano perché è morto il canarino e certo dispiace che muoia il canarino però insomma con tutti i bambini che muoiono forse non è proprio il dramma più importante però l'emotività è così cioè non è prima di tutto una reazione ragionevole è qualcosa che ci colpisce ecco e quindi forse questo è quello che dicevo anche prima di imparare a pensare cioè che la reazione emotiva non è sempre quella più diciamo più reale che noi ci spaventiamo per cose che magari sono modeste non vediamo il grande pericolo no che quindi che incombe su di noi quindi ecco però questo però pensare vuol dire appunto dare alle cose il giusto peso e questo lo dico nel senso che nessuno di noi è soltanto un pensiero o è soltanto un'emozione pensiero e emozione si mescolano fanno parte delle nostre reazioni però ecco io vorrei dire una parola su questo sentirsi inadeguato della mamma o del papà o della famiglia ecco io credo che in un certo qual modo siamo tutti inadeguati a tutto quello che dobbiamo fare però in questo caso mi pare che qualche pagina evangelica può aiutarci a dire sapete quando c'erano migliaia di persone là nel deserto e la sera scendeva e quindi si dice adesso come fanno a mangiare questi migliaia e migliaia di persone e alla fine i discepoli di Gesù hanno tirato fuori cinque pani quel che avevano e Gesù ha detto ma portate questo distribuiamo questo e è bastato è cresciuto ce l'è avanzato di questo pane questo vuol dire dunque che in una logica di fede il poco che siamo è abbastanza che quel poco che noi possiamo fare questo è abbastanza quindi questo vorrei dire ai genitori che talvolta hanno questa sorta di sofferenza di sentirsi inadeguati io vorrei dire questo così come siete con anche i limiti però soprattutto con quel bene che c'è dentro così come siete andate bene per educare i figli che vi sono affidati andate bene educare non vuol dire che gli rendete tutto facile che siete capaci di consolare ogni lacrima che trovate sempre le parole giuste educare è un accompagnare che dura nel tempo che dura negli anni che porta frutto quando poi noi restiamo alle spalle e i ragazzi vanno avanti ecco quindi forse noi ingigantiamo un po' il momento presente e ci sembra l'unica cosa che c'è l'unica cosa che ci sfida l'unica cosa che persino ci vince e invece noi abbiamo fiducia che il tempo è amico del bene che la testimonianza sostiene più dell'intervento puntuale che risolve quel problema o che affronta quel giorno particolarmente storto ecco quindi così come siamo adulti con i nostri limiti però andiamo bene per quella vocazione alla quale siamo chiamati allora come possiamo fare per sostenere le difficoltà emotive di crescita io non lo so tutte queste cose come si può fare io mi permetterei di usare un'immagine ecco forse educare è un po' come insegnare a volare ecco insegnare cioè ad aver fiducia in se stessi e a lanciarsi e non sempre ci deve essere la mamma che ti tiene per mano quando impari a camminare a un certo punto la mamma deve affidarti al sentiero alla strada imparare insegnare a volare ecco quindi vuol dire a puntare in alto a staccarsi dall'immediato ecco insegnare a volare tutta l'educazione però a me sembra un'immagine suggestiva no? perché vuol dire che c'è una libertà da liberare più che un puntello da mettere perché la fanciulla poi si scoraggia ecco bisogna dire guarda lontano cerca in alto fidati di Dio abbi fiducia in te stessa ecco questo insegnare a volare mi pare un'immagine che mi piace molto del modo di tradurre l'impegno educativo dei genitori in primo luogo ma anche degli insegnanti delle scuole eccetera e poi appunto questo tema della solitudine è un tema che ci ha provato molto in questo periodo nello stesso tempo insomma si sono sviluppate modalità di comunicazione attraverso le piattaforme delle chat che forse sono persino invasive persino eccessive noi la solitudine è una cosa deprimente però bisogna anche imparare a star soli e però ecco la solitudine si supera credo non soltanto perché si sta insieme ci si abbraccia si va a mangiare la pizza va a scuola ecco mi pare che tutte queste cose desideriamo speriamo che si possano fare così con scioltezza però a me sembra anche che è molto di più del singolo momento il senso di appartenenza cioè io so che gli altri ci sono so che i miei compagni ci sono so che i miei insegnanti il personale della mia scuola c'è so che i miei genitori ci sono ecco io credo il senso di appartenenza che non nasce da una dichiarazione dice non preoccuparti che ci sono io queste sono forme così che magari aiutano in qualche momento ma non sono la soluzione invece bisogna che uno che impara a volare sa però che la rondine è grande è lì a vedere nel caso che perdi l'orizzonte che ti stai precipitando ti viene ad aire e c'è ecco c'è c'è il nido in cui puoi tornare ma poi a un certo punto devi costruire un nido per te devi andare oltre ecco io direi queste due cose vorrei dire ai genitori e anche a tutti gli educatori che avvertono l'inadeguatezza e qualche particolare difficoltà indubbiamente drammaticamente cresciuta in questo periodo però ecco la prima cosa è abbiamo stima di noi stessi noi abbiamo fiducia che così come siamo andiamo bene per la missione che ci è affidata e che educare è così insomma lanciare incoraggiare insegnare a volare e poi anche insegnare coltivare questo senso di appartenenza che qualche volta si può esprimere andando a mangiare la pizza insieme e qualche volta invece si esprime andando a messa insieme qualche volta si esprime stando in conversazioni come stiamo facendo noi adesso ecco senso di appartenenza ha bisogno anche dell'incontro in presenza però insomma è molto più profondo di questo ma credo che con queste indicazioni appunto che quello che facciamo in qualche modo è già abbastanza e che il nostro compito è quello di appunto insegnare a volare e rimettere dentro questo senso di appartenenza ci introduce a un'altra considerazione cioè non soltanto noi fronteggiamo proviamo a fronteggiare le difficoltà e magari i timori o la situazione emotiva dei nostri figli o dei nostri bambini i ragazzi che incontriamo a scuola ma poi vorremmo anche innanzitutto aiutarvi a riconoscere che la vita comunque è buona cioè che ogni situazione presenta dentro di sé delle occasioni di futuro di crescita di bene ed è proprio su questo che interviene la testimonianza della signora Valeria Guanziroli delle scuole parrocchiali di Binzago che appunto ci ha presentato poi una testimonianza su questo versante e che pone ovviamente ulteriori domande e quindi le lascio la parola grazie buonasera a tutti scrivo queste righe in veste di mamma di due bimbi uno alla scuola primaria e una alla scuola dell'infanzia ma anche di insegnanti di scuola media nell'istituto parrocchiale di Karate non mi soffermo a elencare le difficoltà di questa situazione che ormai da veramente troppo tempo ci troviamo a vivere senza capirne davvero bene il senso il desiderio è sempre stato però quello di non far perdere il gusto della bellezza di vivere alla scuola accompagnando figli e alunni alla scoperta di un positivo che può dipanarsi anche dentro le difficoltà noi adulti per primi ci siamo dovuti chiedere se fosse davvero possibile innanzitutto per noi vivere così per essere testimoni credibili di fronte ai più giovani è innegabile che momenti di sconforto ci siano stati e ci siano tuttora ma forse ha acquistato ancora più senso la scelta di mandare i nostri figli in una scuola cattolica così come quella di lavorarci nel mio caso nella dedizione certamente più faticosa del solito abbiamo desiderato far passare uno sguardo di benevolenza di accoglienza di non rassegnazione di cura che va al di là di qualunque circostanza è stato evidente che non poteva dipendere solo dalle nostre forze ma quello spirito che anima le nostre scuole doveva davvero farsi presente e agire nelle piccole faccende quotidiane per questo per esempio il momento della preghiera è diventato ancora più urgente e prezioso così come il bisogno di confrontarsi con colleghi con le maestre dei nostri figli e con le mamme che si trovano nella mia stessa situazione è stato bello scoprirsi grata di non essere sola cosa che normalmente a volte veniva data per scontata o era messa da parte per piccole scaramucce che ora ci paiono insignificanti ci siamo scoperti così più uniti come sempre accade quando si è messi di fronte all'essenziale quello che mi fa dire che la strada percorsa è stata buona è la serenità di mio figlio quando frequenta le sue lezioni quando parla delle sue maestre quando mi dice che non vede mi diceva che non vedeva l'ora di tornare a scuola l'idea che nel cuore gli resti il ricordo di questa nostalgia e questo grande desiderio è forse il tesoro più prezioso che si porterà dietro da questo periodo e forse anche io andando a scuola nei prossimi mesi e nei prossimi anni darò un po' meno per scontata la possibilità di incontrare i miei alunni di fare loro una carezza di guardarli negli occhi perché la fatica viene sovente vista con un'accezione negativa e non come opportunità di crescita e quindi come presentare con sincerità ai figli le difficoltà senza fingere o pretendere che tutto vada sempre bene grazie 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 a molte grazie grazie della testimonianza e delle domande questo tema è molto interessante questa esperienza piuttosto evidente è molto più raro che uno si chieda quando tutto va bene quando è felice quando il sole splende quando gli amici sono così come uno li desidera non si chiede perché gli amici mi vogliono bene ma invece quando invece capita qualcosa che lo affligge si domanda perché come se il perché non fosse tanto per sapere il senso di quello che si sperimenta ma fosse per dire non sono d'accordo non doveva capitarmi questa cosa cosa ho fatto di male per ammalarmi per avere un problema in casa eccetera eccetera ecco questo fatto del domandarsi il perché delle cose che ci fanno soffrire e del vivere quasi come ovvietà le cose che vanno bene è una tendenza normale ecco per questo apprezzo anche questa testimonianza che dice ma forse poi quando tornerò a scuola quando torneremo a lavorare insieme forse dovremo apprezzarlo di più perché abbiamo visto quanto è faticoso quando ci mancano quindi ecco una prima riflessione che mi ha suscitato questa testimonianza è questa imparare a domandarsi perché sempre proprio per vivere in pienezza quello che stiamo vivendo che si tratti di fatica o di festa domandarci perché vuol dire che possiamo dare un senso alla festa e alla fatica ora la fatica appunto fa nascere un perché vuol dire disapproviamo la fatica perché la disapproviamo perché non è assunta come una normale situazione l'esperienza del vivere su questa terra ecco io credo che almeno io ritengo determinante lo scopo cioè quello che ci permette di affrontare la fatica è perché lo scopo ci attira per esempio io credo che quando i calciatori o quelli che fanno qua il lavoro si allenano talvolta gli esercizi che il mister impone sono faticosi sono impegnativi stancano le gambe o le braccia ecco e però uno a meno adesso normalmente non si lamenta ma perché faccio fatica no non dice così ma dice se faccio fatica se mi alleno bene domenica gioco ecco quindi vuol dire che lo scopo lo scopo desiderabile dà senso anche alla fatica questo per far la banalità dell'esempio dell'allenamento nell'ambito dello sport ma il Vangelo come si sa fa l'esempio molto più impegnativo della donna che partorisce la donna che partorisce soffre attraversa dolori del travaglio del parto ma quando viene al mondo il bambino dice il Vangelo si dimentica perché è così felice di avere il bambino che tutto quello che ha sofferto tutti i mesi di gravidanza tanti disagi che magari ci sono stati non se ne ricorda più perché è venuto al mondo un uomo quindi ecco l'avere uno scopo il fatto che la meta verso la quale andiamo ci attira convince a correre convince ad affrontare la fatica del cammino e quindi io credo che tante forme di malumore o di resistenza o di insomma di sofferenza di tragedia forse perché non c'è una meta forse perché noi non sappiamo indicare con evidenza che c'è una meta che merita di essere sperata e quindi non si tratta tanto di dire fai fatica perché la vita è così bisogna accettarla così ecco ma dovremmo dire no fai fatica studia perché così realizzi la tua vocazione fai fatica e impara fai questi esercizi perché la vita è la tua vocazione impara a curare il tuo carattere a correggere i tuoi difetti perché tu in questo modo ti prepari a compiere la tua vocazione eccetera ecco uno scopo desiderabile rende anche la fatica quasi un'esperienza desiderabile non in se stessa ma perché porta alla meta come appunto uno ama la strada perché sa che c'è una terra promessa che l'aspetta quindi io questo tema della meta della motivazione non utilitaristica come quello che dice ma se sono promosso allora il mio papà mi regala il motorino ecco questa idea del dire faccio una cosa per averne un vantaggio oppure l'altro che faccio una cosa perché ho paura di essere punito quindi se tu non studi io ti tolgo che ti chiudo in casa non so tu ti castighi cioè la minaccia della punizione e l'interesse utilitaristico non motivano la fatica motivano spesso a coltivare un risentimento per la fatica invece la chiarezza della della fine della terra promessa che ci aspetta motiva anche a camminare nel deserto e questo forse il diciamo uno dei segreti della proposta educativa no far intuire che c'è una terra promessa e che tutto quello che si fa è per giungere là Mi pare che in questo senso gli adulti di oggi forse devono un po' convertirsi perché qualche volta l'insistenza degli adulti ad essere scontenti, a lamentarsi, a dire che le cose non van bene, a dire che la vita è complicata, a dire che la terra è rovinata da tutto l'inquinamento. L'insistenza degli adulti ad essere di malumore è un grave danno per l'umanità perché convince i ragazzi, i bambini che non va la pena di diventare adulti, perché sono sempre scontenti che scopo c'è a desiderare di essere adulti. E quindi abbiamo noi la nostra responsabilità di dire sì, si fa fatica, certo, non è che tutto va via liscio, anzi talvolta sono molte cose che ci fanno piangere, però nel complesso noi attraversiamo questo territorio perché c'è una terra promessa che ci aspetta. Ecco, quindi la fatica deve essere integrata dentro un cammino, una vocazione da realizzare. Poi come presentare anche con sincerità ai figli che la vita è difficile, che le difficoltà fanno parte della vita. Ecco, questo io penso, mi permetto di dare soltanto due piccoli consigli. Ecco, che in certi momenti è necessario far fatica insieme. Ecco, che il ragazzo o la ragazza si possono lamentare che ci sono delle sofferenze da provare, però ecco, la famiglia ha proprio questo. Ecco, in questo momento la fatica la facciamo insieme. E quindi anche tante esperienze che voi avete raccontato, di come avete interpretato i momenti dell'isolamento. Ecco, non avete detto arrangiati, ma siete stati lì, ecco, vicino ai figli, avete fatto anche voi fatica. Ecco, il far fatica insieme fa capire che sono cose che fa parte della vita, anche le sofferenze, le fatiche, le frustrazioni, i momenti di nervosismo, far fatica insieme. Questo mi pare un suggerimento per sostenere in qualche momento un po' critico anche il crescere dei figli. Il secondo aspetto, il secondo esercizio che mi permetto di suggerire è quello di, non so come dire, incontrare chi fa più fatica, andare a visitare persone che sono più provate dalla vita. Forse questo può far del bene, non è garantito neanche questo, perché niente nell'educazione è garantito. Però se appunto uno dice andiamo a trovare i nonni che sono nella casa di riposo, quando si potrà, ecco, vediamo come si vive quando si è anziani, malati, eccetera. Andiamo a trovare i bambini che soffrono della leucemia, eccetera. Cioè dire sì a tutti i lamenti che adesso non puoi giocare al pallone, sì va bene, spiace, però guarda cosa succede nel mondo. C'è gente che non ha più neanche la casa, altro che il pallone, che ecco, non è che questo sia una predica da fare troppo. Ecco, però io credo che queste due cose, fare qualche esercizio di fatica insieme e l'altro incontrare come esperienza, ecco non solo come titolo del giornale, ma come esperienza persone che fanno molta più fatica di noi, e che soffrono molto più di noi, che hanno problemi ben più gravi dei nostri, secondo me aiuta ad accettare anche la propria situazione e a viverla esattamente come un'occasione, come quel cammino che porta alla meta. Ecco, sono un po' consigli così della nonna, ecco, però insomma è tutto quel che riesco a suggerire. Forse voi avete molte più cose da insegnare a me di quelle che io a voi, ma comunque questo è quello che sono riuscito a pensare. Grazie. Ecco, infine, forse tra i modi per uscire anche da questa logica della lamentela, in particolare nei confronti della solitudine, dell'isolamento, c'è stato anche l'accorgersi che non è vero che c'è stato soltanto isolamento, ecco, ma che abbiamo riscoperto innanzitutto l'importanza della relazione con gli altri, l'importanza del desiderio di cercare, di avvicinarsi reciprocamente, e in qualche modo credo che una delle risorse maggiori delle nostre scuole sia anche questa, quella di metterci in continuo contatto, non farci sentire da soli, favorire occasioni in cui si ragiona, si pensa insieme, ci si incontra. Anche quella di questa sera sicuramente è una di queste, è testimonia di un intento che è quello che poi veniva ricordato anche all'inizio dal preside Marchisio quando diceva di questo lavoro, del rincontrarsi, del mettersi insieme tra scuole. Ora, tutta questa esperienza effettiva, reale, almeno tanto quanto sentire poi che in altri momenti, certo, manca la vicinanza fisica o una prossimità a cui eravamo abituati. Allora, su queste riflessioni sentiamo la signora Gloria Ponti, delle scuole parrocchiali di Pinzago, che appunto proponeva una testimonianza proprio su questo aspetto. Buonasera a tutti. A noi il coronavirus ci ha colpiti da vicino. Nel giro di una settimana tutta la famiglia era positiva. Siamo sempre stati attenti, abbiamo evitato di frequentare amici, limitato i contatti con i parenti, anche al lavoro che svolgiamo a fianco delle persone più fragili. Non abbiamo mai abbassato la guardia, eppure ci siamo ammalati. Non vi nascondiamo che nei primi giorni la preoccupazione per l'evolversi della malattia ci ha parecchio agitati, ma fin da subito abbiamo capito, sì, di essere chiusi in casa, ma mai soli. L'isolamento è stato fisico, mai emotivo e mai relazionale. Ogni giorno capivamo quante le persone a noi care ci erano davvero vicine. La spesa lasciata davanti, la porta da parte dei nostri parenti, un vaso di primule da parte dei vicini, gli amici che ci consegnavano al domicilio come il miglior delivery, la spesa del macellaio. Abbiamo capito che le relazioni coltivate in questi anni, sia con i parenti, sia con gli amici, oltre ad essere fondamentali, passano da piccole azioni e piccoli pensieri, ma soprattutto da quell'elemento che è la fiducia nell'altro che ti permette di soperare ogni smarrimento. Una fiducia che ci è stata insegnata principalmente dalle nostre famiglie, ma che si è rinforzata tramite l'esperienza dell'incontro con Gesù. Nelle sue parole, vieni e seguimi e sarai la luce per gli uomini e sale per la terra, è proprio qui che si sperimenta la fiducia nell'altro. E' questo che ti permette di non farti mai sentir solo, ma di affidarti a Dio e agli altri, per costruire un domani diverso. Questo ci ha insegnato questa forte esperienza di malattia. E come genitori ci auguriamo di poter trasmettere questo profondo valore anche alle nostre bambine nel lavoro più faticoso del mondo che fare i genitori. Quello che noi vogliamo chiederle è, al termine della pandemia in che modo possiamo valorizzare il contatto umano e come possiamo trasmettere ai nostri figli la fiducia negli altri e in Dio che abbiamo riscoperto? Grazie. Grazie, grazie a molte di questa domanda, come delle precedenti, molto interessanti. esperienza di genitori ha dentro una sapienza che quelli che parlano dei genitori o parlano ai genitori magari non hanno, non perché non abbiamo studiato, non abbiamo pensato, ma perché c'è qualcosa che soltanto la carne è capace di insegnare. Quindi proprio il fatto di essere genitori dà una sapienza che ha una sua specificità, non rende inutile i libri o gli studi o gli approfondimenti scientifici, ma insomma non bastano questi libri e questi studi per sapere cosa vuol dire far qualcosa. è quello che, ecco, quindi dico che con molta modestia mi permetto di rispondere anche a queste domande come alle altre. Dunque come valorizzare il contatto, come valorizzare proprio la presenza fisica quando saranno finiti tutti i motivi per quelle cautele che invece adesso seriamente e onestamente manteniamo. Io penso che i cristiani sanno quanta importanza ha il contatto, proprio la vicinanza fisica, ecco, quindi io penso che il vertice che deve poi educare tutto il resto come una riserva inesauribile di acqua da cui sgorga un fiume perenne, ecco, si chiama eucaristia. L'eucaristia è quella, è proprio una cosa come ogni sacramento, no, che ha una dimensione fisica, quindi vuol dire che c'è un pane, che essendo un pane solo, allora siccome tutti mangiano dell'unico pane diventano un unico corpo. Ecco, questo fatto che lo Spirito Santo ci fa diventare un cuor solo, un'anima sola perché partecipiamo all'eucaristia, quindi l'andare a messa insieme con gli amici, con le famiglie, insomma, secondo poi le tradizioni di ciascuno, non è soltanto un rito sociale del dire che è bello ritrovarsi, ma è proprio quel dire c'è un unico pane che ci rende un unico corpo. corpo, quindi io vorrei proprio sottolineare questo, tante cose si possono fare sulle piattaforme, si può discutere, si può parlare, si può sentirsi, però non si può fare la comunione, ecco, per email o per piatto su piattaforma, bisogna proprio essere lì in chiesa, prendere l'ostia consacrata e mangiare di quell'unico pane per diventare un unico corpo. Questo è il contatto fisico, che non è solo fisico, ma è proprio profondamente spirituale, ma comunque che ha questo segno. E un'altra cosa che mi sembra ci aiuti a valorizzarlo è l'arte di far festa, ecco, questo adesso noi le nostre feste sono chiuse dentro, una cerchia ristretta con tutti i limiti, ecco, finita la pandemia credo che dovremmo imparare a far festa, cioè far festa vuol dire stare insieme, non come uno che ciascuno che prende il suo piatto e prende al buffet quello che gli interessa, ma stare insieme per parlare, per giocare, per consolarsi, ecco, la festa, la festa è una forma irrinunciabile del contatto fisico. Ecco, e poi c'è un'altra espressione fisica molto interessante, che è quella che si usa a dire in uno slogan, insomma, un detto, una frase fatta che dice dare una mano, ecco, questa è un'espressione di dar qualcosa del corpo, no? Dare una mano è un modo per dire ti aiuto, però si esprime così, ti do una mano, ecco, quindi questo essere pronti a servire, ad aiutare, a collaborare, ecco, queste tre cose secondo me sono molto preziose, quindi andare a messa per far la comunione e diventare un solo corpo, far festa e dare una mano, aiutare. Come trasmettere ai nostri figli la fiducia negli altri e in Dio? Ecco, questo sarebbe bello sapere che c'è una ricetta per questo, invece no, c'è un rischio per questo, cioè bisogna provare, bisogna, la prima cosa che mi pare trasmette valori è quella che noi chiameremmo per contagio, cioè non perché tu fai delle prediche e allora i figli eseguiranno le cose che suggerisci, non perché tu minacci dei castighi, allora, ecco, ma per contagio, cioè se il rapporto con Dio, se la fiducia negli altri si vede che ti rende contento, contenta, i figli dicono, ecco, per essere contenti bisogna aver fiducia in Dio, aver fiducia negli altri, se invece uno dice di aver fiducia in Dio, però poi quando le cose van male e uno dice, ma Dio si è dimenticato di noi, ma non vale la pena di pregare, non serve a niente, allora anche il bambino, la bambina dicono, ma allora si vede che sì, fiducia in Dio, però fin quando le cose van bene, ma poi nei problemi non trovi, ecco, invece, ecco, questo è il contagio della testimonianza, però non è la testimonianza, una parola molto nobile, per dire come una specie di buon esempio di una persona irreprensibile che dice, guardate come sono bravo io, cercate di imitarmi, la testimonianza è la vita ordinaria di uomini e donne insegnate dai loro limiti e dalla loro santità che appunto praticano un modo di vivere che ritengono che sia bello, buono, ecco, che è buono perché ha questi tratti della fiducia in Dio e della fiducia negli altri, quindi questa è la prima osservazione per questo aspetto, cioè quello del contagio, della testimonianza. Poi credo che un altro passaggio importante è una cosa molto difficile che è la preghiera condivisa, ecco, il pregare insieme e credo che questo sia presente in molte famiglie, però per quel che capisco io in molte famiglie non c'è, ecco, non si può, non si riesce, ecco, allora io qui credo che però sia importante, ecco, trovare forme semplici, non chissà quali preghiere, ma almeno benedire la mensa, almeno io ho provato durante l'Avvento e la Quaresima a proporre di fare quei tre minuti di preghiera, così tre minuti sono sufficienti per dire allora qui abita il Signore, allora noi siamo insieme nella Chiesa, ecco, pregare insieme è molto importante e mi pare che con i bambini più piccoli è quasi anche un po' spontaneo, diventa anche piacevole, c'è un momento forse in cui capita, non a tutti, ma insomma a molti adolescenti di diventare atei, cioè di dire io non ci credo, questo è un po' una moda che non devono essere diversi e quindi io non credo a niente, non credo in Dio, allora lì è un po' più difficile pregare insieme, però io credo che in quel momento magari in cui anche il ragazzo è un po' ribelle o comunque che ha deciso di non credere in niente e quindi è difficile dirgli vabbè ma almeno prega, almeno fa il segno della croce, ecco questo almeno non mi sembra una grande proposta educativa, invece perché non è che uno deve dire facciamo gli sconti perché così almeno anche tu fai qualcosa di cristiano, credo invece che sia importante che i genitori preghino per quel ragazzo o quella ragazza che chissà perché improvvisamente è diventata atea o si professa agnostica, non so tutte le forme che si usano come una moda incontenibile in questo tempo, ecco, però pregare insieme e quando non si può pregare insieme pregare per, pregare per, ecco. e un'ultima cosa che voglio proporre che a me sembra molto bella, che mi piace molto fare è quella di chi, di quel Salmo che si chiama il Salmo 115 e che inizia così che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato, per tutto quello che ha fatto per me e allora il salmista risponde a questa domanda dicendo allora io andrò al Tempio del Signore, vado là a rendere grazie, cioè il pellegrinaggio, ecco, questa è una cosa bellissima secondo me, cioè che una famiglia, un gruppo di famiglie si mettono in cammino, magari a piedi oppure dicono andiamo a Caravaggio, arriviamo lì, parcheggiamo lì e poi c'è un cammino dentro, io amo il Sacromonte essendo dalla provincia di Varese quindi per me l'ideale del pellegrinaggio è andare al Sacromonte salire la via sacra così dicendo il rosario, però ecco questo è un rito mio personale ma invece che una famiglia dica a noi quel giorno lì dell'anno che sia l'anniversario del matrimonio o qualche altra data significativa noi andiamo insieme a dire una preghiera alla Madonna del Bosco, di Caravaggio, di quello che è, ecco il pellegrinaggio per motivato dalla gratitudine, ecco questo vorrei dire, ecco queste mi sembrano i tre capitoli in cui io posso incoraggiare questa trasmissione di fiducia dagli adulti ai geni fiducia negli altri, fiducia in Dio e suggerisco questo, ecco di viverla anzitutto che i genitori la vivano, la mostrino senza diciamo amor proprio e senza neanche però nasconderla, quella di pregare insieme e quella di domandarsi che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato e andare dunque in qualche luogo sacro a praticare questa forma di preghiera bellissima che è il pellegrinaggio, specialmente se è il pellegrinaggio familiare dentro una comunità di famiglie o di un gruppo di amici, ecco per me questa è una cosa bellissima. Bene, questo è un po' di condivisione di esperienza e certamente non ricette che risolvono i problemi, però ecco anche cose belle che ci dicono che trasmettere la fede è una cosa bella, ecco diceva che uno dei mestieri più difficili del mondo è essere genitori e io questo non lo so perché non sono genitore, però insieme con questo forse sarebbe bello dire una delle cose più belle e che fanno crescere di più un uomo o una donna è proprio questo, quello di dare la vita agli altri e dare vita agli altri non solo nel senso di mettere al mondo ma anche di condividere il senso della vita, dare la vita e trasmettere il senso della vita. Ecco, questo vorrei augurare a tutti e questo vale per i genitori in un modo assolutamente determinante ma vale anche per tutti noi, per i preti, per gli insegnanti, per tutti quelli che fanno un servizio alla crescita, all'età evolutiva e lo fanno non solo per dire devo portare alla maturità e devo portare all'esame di terza media, e insomma tenere bei risultati per il prestigio della mia scuola ma devo aiutare questi ragazzi a desiderare di diventare adulti perché la vita ha un senso così bello che merita persino di essere donata. Eccellenza, grazie mille. Devo dire che questa sera ci ha accompagnati davvero con grande paternità in questo percorso di conoscenza che abbiamo fatto e le dico veramente grazie perché ha saputo veramente leggere le nostre testimonianze i nostri piccoli contributi con una grandissima intelligenza che ci ha restituito un compito. In questo senso io questa sera ho come ricevuto nuovamente da lei il compito quando lei parlava prima della vocazione. Dentro tutto quello che l'abbiamo raccontato con grande semplicità ma con grande intensità ci ha richiamati al fatto che noi siamo questo luogo di rapporto con Dio innanzitutto che è la prima cosa su cui investire e su cui scommettere ma che questo si innesta nella relazione con gli altri con la comunità e con anche tutti gli amici delle altre scuole che sono con noi e in questo cammino che stiamo facendo possiamo veramente verificare la fede. Mi ha colpito tantissimo anche quello che lei ha sottolineato prima sul valore della fatica e sul valore dello scopo che una fatica lo si accetta una crisi lo si accetta quando uno viene reindirizzato a guardare qual è lo scopo e da ultimo quando lei alla fine diceva che la generatività non è soltanto biologica ma è una generatività al senso della vita che è quello che ci chiedono tantissimo i ragazzi se penso in particolare quelli più grandi con tutte le difficoltà i disagi che stanno comunicando e che desiderano che l'adulto sia adulto adulto nella vita adulto nella fede che quindi sia capace di introdurli al senso della vita per cui noi approfittiamo della sua disponibilità eccellenza reinvitandola cioè noi adesso abbiamo ricevuto il suo mandato ci impegniamo a lavorarci insieme a condividere a fare un pellegrinaggio insieme per pregare come ci ha invitato lei magari la invitiamo anche al pellegrinaggio magari possiamo andare anche a Sacromonte e poi potremmo fare un altro momento come questo in cui raccontiamo che cosa ci è successo in questo nuovo periodo che si apre davanti a noi cosa ne pensa? ma se c'è da andare al Sacromonte vengo volentieri se si sceglie una data una data che posso praticare io sono andato molto spesso e adesso ci vado un po' più di rado perché prima ero a Venegono e quindi era anche più vicino e spesso la domenica mattina mi chiamavano su a celebrare per le Romite quindi quindi al Sacromonte ci vengo volentieri una riunione così diciamo che è meno attraente ecco del Sacromonte bellissima e cioè veramente è una cosa che ho imparato molto però insomma è una cosa sì ecco se mi chiamate magari vengo ecco però a questo punto speriamo di poterla fare cioè sarebbe meglio farla di presenza lì tutti al centro pastorale di Seve in qualche posto dove ci stiamo almeno vedo anche chi ha assistito a questa nostra trasmissione che invece certamente quelli che hanno parlato sono i più belli della Brianza questo almeno il signore senz'altro però magari vedendo anche gli altri è anche più interessante però insomma adesso a parte gli scherzi faccio volentieri ecco naturalmente bisogna che si trovi il momento giusto perché devo stare a fare anche altre cose nella vita quindi certo assolutamente noi parleremo con Don Fabio e saperemo un modo un tempo sì Don Fabio diciamo così che di per sé io lo pago perché faccia lui queste cose cioè non è che dice ah ecco questa buona idea chiamiamo l'arcivesco e così Don Fabio dice ah ecco adesso parla la signora Gloria adesso parla sì è molto impegnativo questo compito che hai tu Don Fabio però per sé dovresti fare tu queste cose non è io faccio volentieri comunque vabbè insomma lo stipendio di Don Fabio è un po' diciamo un po' a rischio è un po' no è un po' a rischio è un po' senza quella produzione che io mi aspettavo perché dice per la scuola ci pensa lui ecco quindi io finalmente posso riposare perché come si sa il vescovo ha come sua vocazione quello di non lavorare no che dice a uno fai questo e lui lo fa e quindi basta per la scuola c'è lui per lo sport c'è quell'altro per la famiglia c'è quell'altro e io sono a posto invece tutti questi hanno preso quest'idea di dire ma perché non invitiamo l'arcivescovo di qui e di là e vabbè insomma allora cosa ti pago a fare vabbè comunque questa è una polemica approssimandoci al primo maggio il giorno del lavoro non mi pare il caso di provocare troppe chiedo scusa di essermi lasciato andare perché no no troveremo il modo di far lavorare anche Don Fabio non si preoccupi troveremo modo per tutti non c'è problema allora io la ringrazio ancora tantissimo vi ringrazio tantissimo anche Don Fabio ci aggiorniamo prossimamente grazie a proposito si potrebbe anche dire questa esperienza è molto costruttiva come mi sembra molto interessante non è neanche troppo complicata io sarei portato a considerare questo come un laboratorio cioè dire questa cosa si può fare non solo nella Valle del Seveso ma forse anche in altre zone della diocesi dove ci sono tante scuole paritarie si può cominciare da quelle di per sé non è che vogliamo escludere quelle statali però ecco mi pare una cosa interessante ecco adesso al di là che ci sia io che non ci sia però questo fatto secondo me mi pare che Don Fabio lo sta facendo in tante occasioni in modi diversi ecco però io incoraggerei proprio a questo ecco a dire creiamo occasioni di incontro in tante posti della diocesi adesso lo possiamo fare più facilmente perché è chiaro che su piattaforma non ci costa viaggi e cose di questo genere però io incoraggerei ecco perché mi sembra molto interessante certo senza altro sì infatti dicevamo che ci piace pensare che sia l'inizio di una serie di incontri di opportunità va bene allora ci aggiorniamo prossimamente con tutte queste ipotesi grazie mille e un saluto a tutti gli altri a tutti quelli che assistono assolutamente grazie saluti a tutti buonanotte 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti